Buongiorno e buona giornata e buona l'ora. Oggi è martedì 9 giugno 2020. Bene, nonostante il cattivo tempo di ieri pomeriggio, diciamo che gli altri due servizi di ieri sono stati portati a termine, tra cui il grandissimo mio acquisto del libro di Deadpool, che proprio è un libro fumetto alla grande. Difatti io, come mi è stato fatto vedere già dalla copertina, gli occhi erano tutti in vuoto, e dissero io devo comprare questo libro. Difatti ho centrato in pieno l'obiettivo e me lo sto iniziando a godere. Ieri ho letto, diciamo, l'antebrima, la prima storia, oggi penso di fermarmi, di continuare a leggerlo domani, così di godermelo, non veloce veloce, ma con un po' più di tempo. E inoltre un mio amico, a cui ho mandato, diciamo, una fotografia della copertina, mi ha detto che è in procinto il progetto dell'uscita del terzo film di Deadpool. Io, per quanto riguarda i film, ovviamente una volta che finirò di leggere il libro fumetto li vedrò, sperando di trovarli entrambi, o chissà, almeno uno dei due. Niente, per il resto, abbiamo sentito ieri sera al DG5 una cosa per quanto riguarda la FIGC, FIGC, FIGC lega a calcio, in caso di nuova stop dopo la ripresa della Serie A. Insomma, l'unica cosa che ho capito è play-off e play-out. Poi, insomma, ho sentito anche per quanto riguarda le retrocessioni, ma non ho capito molto bene. Comunque, sarà abbastanza strano, non tanto ora per la ripresa dei vari campionati, tra cui ci sarà anche la Liga e la Premier League, ma quando e soprattutto per la Champions, che vedrà l'epilogo praticamente dopo Ferragos, una cosa, almeno nei tempi recenti, mai vista. Se non l'avete fatto, andate a recuperare il video con la mia recensione del DECOVER di NXT Ignor House. D'altronde, credo che è un video che trovate in primo piano quando vi collegate al mio canale. E per il resto, oggi per fortuna, quando mi sono svegliato poco fa, c'è il sole. Speriamo che si mantenga così per tutta la giornata, anche perché dopo una mattina di lavoro, che inizierò a breve, scusate, dovrei fare una bella passeggiata con il mio caro amico di compagnia, Nicola Zecchillo, che ricordo i vari appuntamenti che abbiamo fatto io e lui con il Deluxe Show, cosa che potrebbe sempre tornare. E poi, più tardi, quando, diciamo, avrò visto, cioè ho letto il report di Raw, tra cui mi pare che, insomma, sono successe varie cose. Charlotte Flair, mi pare, per esempio, ha giustamente criticato il fatto che non sia stata lei a subire il conteggio che ha consegnato a Yoshirai la conquista del primo titolo in WWE. Parliamo del massimo titolo femminile di NXT. Quindi, come si dice, un po', questa cosa si è legata al dito, vorrei dire anche giustamente. Comunque, per quanto riguarda Raw e la recensione, ne parleremo più tardi. Io, al momento, non ho altro da aggiungere, quindi oggi video un po' breve. Vabbè, diciamo che, non so se lo avete notato, al momento le piste anche Twitter e Instagram le ho momentaneamente sospese. Però, vabbè, il profilo c'è, quindi, poi, quando ne avrò voglia, riscaricherò le app sul cellulare. Però, almeno, YouTube e Facebook ci sono. Bene, grazie a tutti, buon proseguimento di giornata e alla prossima. Ci becchiamo quando prima. Ciao!